sapevamo che oggi non sarebbe stata una partita facile che sarebbe servita un'ottima inter ecco al di là di quello che è successo nel finale quello che secondo me resta oggi l'atteggiamento la forza di volontà di una squadra che voleva a tutti i costi questa vittoria che era veramente importante ottenerlo sì i ragazzi insomma hanno messo un grandissimo cuore poi chiaramente sono state partite dove abbiamo fatto meglio per quanto riguarda fase di possesso non abbiamo fatto male nonostante qualche problematica per il campo che chiaramente ci ha penalizzato e ha penalizzato pure il Verona perché è una squadra che al di là di avere un terminale come Giuri ci gioca un ottimo calcio con ottimi centrocampisti di qualità chiaramente la fase non possesso dovevamo farla meglio tutti insieme qualche volta siamo stati un po lunghi nelle distanze però la squadra ci ha sempre creduto fino alla fine nel finale mister con le ultime sostituzioni ha deciso anche di ridisegnare un po la squadra cambiando l'assetto tattico sì abbiamo abbiamo cambiato abbiamo tolto un difensore ci si ha messi con con sanchez dietro un auto vice e lautaro è un qualcosa che la squadra può fare e deve fare chiaramente volevamo vincerla però nello stesso tempo chiaramente volevamo non disunirci sul campo studio sì mister buonasera ciao la vittoria la vittoria come diceva lei non magari brillantissima come in altre occasioni ma ci sono i momenti della stagione dove l'unica cosa che conta è fare i punti vincere insomma si esce anche da un momento magari non brillantissimo con la forza con grande forza di di squadra grande mentalità e anche quest'oggi credo che l'abbiate dimostrato e la vittoria il fine nei minuti finali credo che sia un premio per la voglia di provare a vincere fino alla fine sì ragazzi hanno avuto grande cuore abbiamo abbiamo avuto delle sofferenze come ci saranno in tutte le 19 che rimangono perché il campionato italiano sappiamo che è così nessuna partita nessun risultato è scontato e cercheremo abbiamo finito il giorno d'andata 48 punti è un ottimo cammino però sappiamo che siamo metà dell'opera e ci saranno tante altre partite difficili come quella di oggi lo diceva lei adesso mister nell'era dei tre punti a vittoria questa è la terza volta che l'inter conquista almeno 48 punti nelle prime 19 nelle prime 19 partite certo sono detti così possono sembrare solo numeri ma sono numeri che indicano che la strada intrapresa è sicuramente quella giusta soprattutto adesso che vi metterà davanti un gennaio con un calendario molto impegnativo considerando anche la super cup assolutamente sappiamo che abbiamo fatto una prima parte ottima e però ci aspetta la parte finale che sarà ancora più difficile di questa però stiamo recuperando pezzi perché avevamo abbiamo avuto mesi di dicembre che abbiamo avuto difficoltà adesso la squadra sta recuperando tutti gli effettivi avrò la possibilità di scegliere di ruotare i giocatori e cercheremo di come gli ultimi anni di fare più partite possibili grazie a voi grazie a tutti